Dopo averla occupata per diverse settimane, le truppe russe si sono ritirate dalla città ucraina di Borodianca, lasciandosi alle spalle macerie e distruzione. Qui, a 40 chilometri dalla capitale, ai bombardamenti e alle sparatorie sono seguiti i saccheggi. E i civili, che non sono scappati dalle violenze, raccontano. I ponti sono stati fatti esplodere, non si può più passare. I soldati hanno forzato tutti i garage uno per uno e la gente dice che avevano le smerigliatrici per far esaltare le serrature. Ora il pericolo principale riguarda le mine sparse per l'intera città, pronte a esplodere a ogni minimo contatto. Secondo le autorità locali, lo sminamento potrebbe richiedere fino a 5 anni. Intanto 26 cadaveri sono stati estratti dalle macerie e sono più di 200 le persone considerate disperse. Per il presidente ucraino Zelensky, Borodianca potrebbe essere ancora peggio che Buccia. Noi siamo scappati in macchina mentre stavano arrivando i carri armati. Mi avevano avvertito per telefono, così sono andata al villaggio con mio marito, mentre mio figlio è rimasto qui. Credo sia sotto le macerie perché non riusciamo a trovarlo. Il semi interrato di questo edificio, ora completamente distrutto, serviva come rifugio per decine di civili durante l'occupazione russa. Ora le squadre di soccorso stanno lavorando per salvare quello che possono e temono che le macerie possano nascondere lo scenario peggiore.